salve buongiorno allora vi volevo presentare la nuova scarpa che ci è arrivata dalla u power questa scarpa è stata pubblicizzata dal nuovo immagine come avete visto nelle vostre case da leclerc il ferrarista questa scarpa innovativa perché in effetti hanno messo all'interno della scarpa un pellame fresh che mantiene il piede fresco quindi è da provare e da collaudare quindi vi voglio consigliare di venerlo a provare e vedrete che è un prodotto innovativo io vi ringrazio e vi saluto vi auguro un buon lavoro e attenzione alla sicurezza